sono colto da un dubbio che io forse abbia amato tanto la sigaretta per poter riversare su di essa la colpa della mia incapacità chissà se cessando di fumare io sarei divenuto l'uomo ideale e forte che mi aspettavo forse fu tale dubbio che mi legò al mio vizio perché è un modo comodo di vivere quello di credersi grande di una grandezza latente come avrete sicuramente intuito questo è un estratto preso dalla coscienza di zeno e partiamo proprio da qui perché penso sia un ottimo modo per introdursi a cannoni in questa puntata e anche per mettere a fuoco le forme del mondo in cui oggi ci muoveremo premetto che non è facile parlare di un autore o trattare di un masterpiece di cui praticamente si è detto tutto e onestamente non ho voglia né di mettermi in fila dietro all'ennesima inutile recensione di argomenti triti e ritriti né di fare la professoressa svogliata del liceo che con le sue ogan e la borsa in pelle con disegnata sopra la cartina geografica vi spiega che italo sveo era un amico di joyce e che in verità si chiamava aaron hector smith che viveva da ebreo convertito in una triesta ancora in mano agli austriaci e che dopo avervi detto cinque volte che l'agognato successo letterario è arrivato pochi anni prima della sua morte vi elenca finalmente tutte le cazzo di caratteristiche tecnico narrative che trovate praticamente anche su wikipedia detto ciò parleremo oggi di quello che disvevo si conosce di meno di curiosità e di aneddoti che magari non tutti conoscono e perché no alla fine vi dico anche la mia su questo signore qui bene la prima curiosità che vorrei dirvi è che svevo iniziato la sua carriera non come autore ma come giornalista scriveva articoli per un giornale italiano indipendentista con lo pseudonimo di ettore samigli e si dedicava principalmente a recensioni teatrali ecco questo è il punto il teatro è stato una costante per tutta la sua vita ma egli riuscì a pubblicare solamente un breve monologo intitolato prima del ballo sì cara mamma sarò modesta non farò chiasso dirò che tutti e tutti mi piacciono e non ballerò molto già in collegio mi dicevano che era una buona figliola e come tale quando mamma consiglia è dovere di stare a udire e promettere obbedienza così ella dorme quieta ed io ballo con la coscienza tranquilla è il mio secondo ballo appena ma siamo già tanto lontane per esperienza una dall'altra che non è più possibile intenderci povera mamma ha frequentato tanti balli e non ne ha mai capito niente a meno che i balli e i cavalieri del tempo di mamma non fossero stati differenti sì esatto l'unica cosa che riesce a pubblicare in vita è uno straccio di nemmeno una pagina in cui si impersonifica in una ballerina che si accinge ad entrare in scena onestamente io mai avrei potuto pensare che svevo potesse scrivere una cosa del genere il resto delle sue commedie poi verranno pubblicate solo postume il secondo punto che tocchiamo invece riguarda l'aspetto più intimo di svevo la vita amorosa se da una parte ci viene automatico riflettere la figura dello scrittore nelle famose sventure di zeno cosini dall'altra scopriamo invece che il cuore del triestino appartiene a diversi scritti non solo al suo romanzo più famoso non tutti sanno infatti che svevo prima di sposarsi ebbe un rapporto con una tale giuseppina zergol da ella trasse spunto per il romanzo senilità dando le sue sembianze all'amante del protagonista con il nome di angiolina che era una popolana voluttuosa sveglia e piena di vita insomma l'esatto opposto dell'inetto sveviano la perfetta messa in scena di un amore impossibile successivamente si fidanzò con la sua futura moglie live veneziani bene qui possiamo scavare ancora più a fondo nel 1896 scrive il diario per la fidanzata qui mostra una passione amorosa che è davvero toccante tutto infatti si intreccia con un lato scuro dettato dalla distanza della donna che è troppo legata ai principi borghesi della sua famiglia è bellissimo come svevo cerchi disperatamente di colmare questa distanza attraverso una specie di educazione della fidanzata a che cosa al dubbio e all'inquitudine dell'intellettuale come se volesse avvertirla di quello che sarebbe successo una volta che la sarebbe entrata inevitabilmente a contatto con la sua malattia il fallimento di questo tentativo infatti lo vediamo un anno più tardi in cronaca della famiglia una lettera che svevo scrive la moglie risalta come il mondo intellettuale dello scrittore viene crudelmente soffocato dall'inevitabile confronto con la vita solida e patriarcale e soprattutto borghese della famiglia della moglie anzi in chiusa voglio registrare qualcosa da buon contabile quale mi sono il primo bacio te lo diedi con la freddezza con la quale avrei apposto il mio nome ad un contratto il secondo lo diedi con un'enorme curiosità di analizzare te e me e viceversa non analizzai non compresi nulla perché c'era ancora qualcosa di timido in me che mal ghiacciava al terzo e ai seguenti senti fra le braccia la dolce fanciulla che avevo ricercata il desiderio del mio residuo di gioventù adesso poi capisco la cosa sempre meno certo è che la mia facoltà d'analisi è molto meno grande di quella che credevo non so il colore dei tuoi occhi i tuoi capelli spesso mi sorprendono e non conosco ancora i tuoi baci i miei hanno anche quelli un colore sorprendente non un calore bada perché sto attento attento che un mio bacio non sia più di quello che tu ammetta sia io non voglio essere violento io voglio essere dolce e mite la mia massima volutà consiste nel sentirmi cambiato non oso ancora dire ringiovanito cara livia è stata una grave scossa della quale non mi sono ancora rimesso ma non me ne preoccupo prima di tutto che col buon volere che ci porrò è probabile che mi rimetta e poi se non mi rimettessi la cosa non resterebbe mica meno bella io già ho la convinzione che non troveresti altro sposo perché è inutile che te lo nasconda ti ho compromesso assai e nessuno ti prenderebbe più e poi e poi ho un'altra idea ma quella non la fisso sulla carta te la dirò a voce non è sempre tuo ettore trieste dodici giorni dopo ti rendo giustizia finora fosti proprio la moglie dei miei sogni o che tu non avessi a mutarti finora la tua voce greggia fresca piena restò sempre dolce per me eppure io ti diedi occasione a qualche brusco accento stetti poi sempre a guardarti analizzando e amando e non scoprì né nel tuo occhio né nel tuo gesto ira o disgusto capirai che per me resta una grande tranquillità io credo fermamente che scoprendo in me nuovi difetti sapresti essere anche rassegnata brutta parola ma bella cosa i popoli sopportano dei loro sovrani tutto fuorché la mancanza di patriottismo le mogli dei mariti dovrebbero saper sopportare tutto fuorché la mancanza d'amore e è così che io ti voglio mia buona livia rassegnata al gobbo che ti sta accanto rassegnata tanto da amarne persino la gobba e sappi mentre scrivo fumo è l'ultima sigaretta l'ultimissima ed ora vuoi fare quei denari delle sigarette la dote delle nostre numerose figuole fammi il piacere di credermi io stesso ho un enorme sfiducia nei miei propositi e nella mia fermezza ma forse diverrei più forte se tu mi credessi un bacio d'amore tuo ettore non puoi capire quanto necessaria mi sei così diceva svevo nelle prime lettere d'amore che scriveva la moglie e che tra l'altro abbiamo appena letto peccato che poi il matrimonio andrà male e dopo alcuni anni addirittura comincerà a chiamarla vecchia capra e a definire il matrimonio stesso come una rassegnazione interrotta da qualche ribellione ecco pensateci bene prima di sposarvi un altro argomento di oggi riguarda il discusissimo caso svevo cosa significa che cos'è beh fondamentalmente la questione gira attorno al fatto che uno dei più grandi autori della nostra letteratura è stato scoperto prima all'estero e poi in italia beh un classico no sempre più svegli siamo noi italiani in italia infatti svevo e la sua coscienza sono quasi del tutto sconosciuti il corriere della sera con la firma di giulio gabrin gli dedica il 19 dicembre del 1923 una brevissima scheda zeno è il protagonista di queste memorie autobiografiche che si fingono scritte da un singolare tipo di psicopatico per suggerimento del suo medico il risultato è un romanzo un po' scucito e frammentario che pecca forse di prolissità ma che non manca di interesse psicologico a 64 anni svevo ancora sconosciuto in italia e all'estero e solo grazie all'intervento del suo amico james joyce la coscienza di zeno viene letta dal critico francese valerie larbeau il quale colpito dedicò poi un intero fascicolo all'autore tristino sulla rivista lena vir d'argento e il critico francese benjamin cremio si lamentò dicendo non c'è stato fuori della sua città natale un critico italiano dico uno che si sia accorto della pubblicazione di questo libro di cui il meno che si possa dire è che non solo non assomiglia a nessuno dei romanzi pubblicati in italia dal principio del secolo ma non assomiglia neanche a nessuno dei romanzi pubblicati fuori d'italia dal novecento lungi da me lociari francesi da buon italiota ammetto che mi stanno un po' sul cazzo sti mangiabaguette però questi sono i fatti diamo a cesare quel che di cesare in italia la svolta viene data da un giovanissimo genio montale e questo è secondo me uno dei tanti motivi per cui lo preferisco molto di più come prosatore critico letterario che come poeta questo scrittore esiste davvero in carne ed ossa ed è anzi una delle figure d'artista più concrete e significative del nostro tempo significativo lo svevo in quanto riflette al pari di pochissimi altri gli impulsi e gli sbandamenti dell'anima contemporanea ma questi moti ed ormai sorpresa il contestarlo rispecchia genuinamente in quanto è effettivo risultato d'arte e non già il rapporto a velleità profetiche o polemiche sarà visto raramente da noi uno scrittore altrettanto sprovvisto di istinti predicatori e didascalici il mondo della creazione estetica è evidentemente un mondo a sé per italo svevo e le leggi che lo governano sono leggi che muoiono portate fuori dalla propria sfera in altre parole l'attualità di svevo è quella d'ogni artista schietto e codesta sua contemporaneità deve intendersi quale sua intima forza e non già suo programma all'omaggio di montale svevo risponde poco dopo in una lettera datata 17 febbraio del 1926 nella quale tra l'altro scrive pregiatissimo signore pensi che soltanto oggi ricevo l'esame e il quindicinale contenenti i suoi due magnifici articoli le sarò apparso sconoscente di non averle indirizzata neppure una parola di ringraziamento gliela mando subito ora fervidissima è vero che la tutt'altra cosa dai romanzi precedenti ma pensi che è un'autobiografia e non la mia molto meno di senilità ci misi tre anni a scriverlo nei miei ritagli di tempo e procedetti così quando ero solo cercavo di convincermi d'essere io stesso zeno camminavo come lui come lui fumavo e cacciavo nel mio passato tutte le sue avventure che possono somigliare alle mie solo perché la rievocazione di una propria avventura è una ricostruzione che facilmente diventa una costruzione nuova del tutto quando si riesce a porla in un'atmosfera nuova e non perde perciò il sapore il valore del ricordo e neppure la sua mestizia io sono sicuro che lei mi intende e poi prosegue sapevo la difficoltà di far parlare il mio eroe direttamente al lettore in prima persona ma non la credevo insormontabile certo se avessi la fortuna di vivere sia a lungo da poter scrivere qualcos'altro io non mi imbarcherei più in una simile avventura ci vuole altra abilità della mia e io so di uno o due punti dove la bocca di zeno fu sostituita dalla mia e grida e stuona bene l'unica cosa che mi rimane da dire è che la storia di zeno non finisce con la coscienza ma verrà portata avanti da svevo in diversi racconti e frammenti incompiuti scritti poco prima di morire e che tra l'altro avrebbero dovuto far parte del suo quarto romanzo mai scritto sto parlando le confessioni di un vegliardo o di un contratto qui il vecchio zeno vede opporsi nuovi ostacoli nuove sfasature derivanti dal rapporto con i figli ormai adulti e dall'intrusione del nipotino nella vita familiare perfetto ora mi prendo gli ultimi cinque minuti per dire la mia svevo credo che egli applichi una profonda scomposizione del personaggio che nella letteratura italiana troviamo solo in un altro autore che è pirandello riesce ad esprimere in modo magistrale la condizione moderna dell'uomo senza qualità e la vita borghese che ha perso totalmente il suo centro certo potresti dirmi che anche ad annunzio fa tutto questo ma secondo me il bon vecchio gabriele in confronto a svevo rimane solo in superficie solleva grandi questioni ma non riesce a scavare a fondo nella psicologia del personaggio come fa il tristino dopo tutto la grande differenza sta proprio qui se d'annunzio poi vira su una rivendicazione della sacralità dell'arte e sul ruolo autonomo degli intellettuali svevo no svevo rimane ancorato ad una posizione laica sperimentale e lucidamente razionale senza cadere in eccessive passioni e rappresentando la malattia come il carattere costitutivo della modernità è impeccabile forse è un po ridicolo da dire ma l'inetto sveviano a me ricorda tantissimo ragione il fantozzi impacciato ridicolo inetto appunto ma vincente zeno è un vincente dopo le sue imprevedibili e paradossali gabriele lui cade sempre in piedi la moglie strapica sì ma è la migliore donna che poteva stargli accanto nei momenti difficili arriva la guerra sì cazzo è vero la sua impresa però è l'unica che si salva e che si arricchisce il vero malato è colui che non è cosciente della sua malattia colui che si crede invincibile forte e senza difetti cari miei per svevo la perfezione è malata grazie a tutti grazie a tutti